Sommozzatori, sonde, telecamere sono proseguite per tutta la giornata nella cascata bassa del torrente Fanes. Le ricerche di Alfonso Maria Losti ha scivolato nelle acque venerdì scorso, ma del 38enne romano ancora nessuna traccia. Troppo forte la corrente per immergersi in sicurezza. La portata del corso d'acqua è notevolmente aumentata a causa delle piogge dei giorni scorsi e crea dei vortici molto pericolosi. Nemmeno con la telecamera si è riuscita ad spezionare il fondale del torrente e della pozza sottostanti. La visibilità è scarsissima. Sabato, con delle reti sotto la vasca, erano state recuperate la giacca a vento ed una scarpa dell'uomo, ma il corpo non si riesce a trovare. Oltre agli uomini del soccorso alpino, nelle ricerche sono impegnati anche i vigili del fuoco, i carabinieri, la guardia di finanza, che comunque stanno battendo tutta l'asta del torrente fino alla confluenza con il boite, anche se l'ipotesi ritenuta più probabile è che il corpo non sia stato trascinato a valle, ma si trovi ancora imprigionato nella pozza ai piedi della cascata fonda oltre 8 metri. Il 38enne romano, secondo le testimonianze, stava percorrendo con la moglie la ferrata Giovanni Barbara ed è precipitato dopo essersi sporto per scattare delle foto.